Eccoci qui, come anticipato siamo con Sabrina Visantin che è Presidente di Conf Cooperative Venezia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Con lei parliamo di legalità negli appalti ma cerchiamo di mostrare anche qual è lo stato di salute delle cooperative veneziane, una realtà molto vivace, tra l'altro Sabrina Visantin è Presidente non da tantissimo, prima si occupava di Feder Solidarietà Veneto e quindi adesso si ritrova in questo nuovo ruolo, in un momento anche di sfide importanti per il vostro settore, quali sono le questioni che vi preoccupano maggiormente? Adesso sono in auge le questioni che riguardano i cambi a palto, le tariffe che le cooperative si troverebbero a pagare in base alla legge Fornero. Ecco, questo è un tema molto importante in realtà perché mina diciamo proprio il funzionamento del sistema delle cooperative. Sì, mina proprio la salute delle imprese, nel senso che una cooperativa che si trova a perdere un appalto, oltre a perdere fatturato, a perdere lavoratori, a perdere soci, si trova anche a dover sborsare dei soldi. Parecchi soldi? 1.500 cada uno lavoratore. Per andare a finanziare l'Aspi, che è l'ammortizzatore sociale, molto spesso queste persone tra l'altro vengono poi inserite nella cooperativa che subentra e quindi oltre al danno alla beffa. Questa è una norma già in vigore? È una norma che è stata all'interno del decreto della legge 92 del 2012. Era stata però prevista una deroga al pagamento in caso di licenziamento di subentro appalti che è scaduta il 31 dicembre dell'anno scorso. Appena scaduta. Come associazioni di categorie abbiamo proposto degli emendamenti, non ci siamo riusciti col patto di stabilità, adesso ci proviamo col decreto mille deroghe. Che sensazione avete che verrà accolta? Diciamo che questa è una preoccupazione che deriva dalla famosa riforma Fornero sostanzialmente, ma qual è il senso di questa proposta, di questa legge? Il senso era quello di andare ad indicare quello che era la legge quadro degli ammortizzatori sociali che doveva rispondere a tutta una serie di esigenze e si sono trovati il problema di andare a finanziare l'Aspi, sostanzialmente l'ex disoccupazione. Quindi un problema di bil denaro come spesso. Un problema di bil denaro. Il problema è che le imprese non possono sostenere questo carico perché se un'impresa ha 100 lavoratori per 1.500 facciali il conto, no? a fronte poi di una perdita di lavoro. Ma in questo momento di transizione in cui di fatto è in vigore questa legge, cosa sta succedendo? Stiamo discutendo molto, mobilitando molti onorevoli, stiamo presentando istanze per capire. Di fatto è appena scaduta, si richiede quantomeno una deroga ulteriore e adesso a giorni dovrebbero ragionare su questo. Quindi voi non avete nel veneziano imprese che in questo momento hanno appalti in scadenza, per fortuna quello che capisco. Ancora non mi hanno segnalato niente del genere. Che effettivamente questo viene anche chiamata legge del paradosso, visto che il vostro presidente nazionale l'ha chiamata la legge del paradosso. Perché appunto un'azienda si ritrova senza avere più il contratto, l'appalto e dovendo avere un debito sostanzialmente, dovendo farsi carico di un debito. Ed è una questione che riguarda il sistema delle cooperative che funziona diversamente dalle imprese normali, che di solito i propri dipendenti se li trasferiscono ovunque vanno. Invece da voi si trasferisce spesso solo la direzione. Eh sì, nel senso che nel momento in cui si perde il lavoro non si ha neanche occupazione da dare alle persone. Di fatto il sistema cooperativo è un sistema che ha tenuto abbastanza bene dal punto di vista occupazionale. Siamo tra le imprese che crescono di più, quelle che sanno innovare con mutualità prevalente hanno anche progredito in termini di occupazione fatturato. È una situazione un po' difficile, è una situazione che comunque quando si vede questi paradossi, quando si vede queste regole che non hanno senso da un punto di vista di sostenibilità proprio, ci fa far fatica, ci fa un po' preoccupare. Voi avete condotto tra l'altro una bellissima iniziativa, una battaglia sul fronte della legalità e della trasparenza degli appalti che continuano ormai da molto tempo, adesso con dei passi successivi proprio da poco. Abbiamo presentato una proposta di legge popolare a livello nazionale che va sostanzialmente a certificare quelle che sono le cooperative buone, cooperative vere e da quelle false. Eravamo molto preoccupati dal fatto che alcuni casi di cooperative che ci sono anche al nostro interno e che vanno sicuramente segnalati e dove stiamo cercando di porre rimedio, fossero sulla cronaca a modi esempio di tutte le cooperative. Faccio un esempio, se un'azienda ha un titolare che porta via proventi piuttosto che si muove in maniera disonesta, sotto accusa va il titolare. Nel momento noi abbiamo visto in cui le cooperative, qualche dirigente di cooperative ha combinato qualcosa che non va, sotto accusa va tutto il mondo cooperativo. Da questo punto di vista riteniamo doveroso dover porre noi dei paletti e dire queste sono le cooperative come le intendiamo noi. Questo come confcooperative ma in questo momento anche come ACI che è l'associazione che collega le associazioni e categorie delle cooperative. Ecco, diciamo che il problema che lei ha posto è molto sentito perché appunto poche mele marce possono veramente danneggiare un intero settore che spesso si occupa anche di aree molto sensibili della nostra vita, penso alle imprese di pulizie ma anche per quelli che lavorano all'interno delle scuole, le mense, servizi sociali, l'assistenza agli anziani. Sono cooperative che hanno una grande ricaduta e sui quali appunto bisognerebbe porre massima trasparenza e massima fiducia anche. Sì, e anche massimo rispetto dei contratti di lavoro. Questo a partire dai bandi di gara rispetto agli appalti pubblici ad esempio. Con la federazione sociale di confcooperative è stato siglato un protocollo a livello regionale sulla legalità negli appalti pubblici che va sostanzialmente a dire che non ci possono essere gare a massimo ribasso se si vuole qualità e servizio rispetto del costo del lavoro, dei costi della sicurezza piuttosto che delle salvaguardie del lavoratore stesso. In Veneto già esistono dei sistemi di appalto che sono un po' calmirati tra qualità del servizio offerto e appunto prezzo del servizio offerto. Bisogna stabilire degli standard. Come si fa? Che cos'è che dà sicurezza? Noi abbiamo proposto che tutte le dita appaltanti abbiano un rapporto qualità prezzo soprattutto sui servizi delicati che lei citava prima almeno 60 qualità e 40 prezzo. Di fatto le posso dire che adesso è fuori un appalto di cui non si dice il peccatore a massimo ribasso da una parte, in un'altra zona del nostro Veneto è fuori un appalto che non riconosce la base d'asta non parte dal livello di contratto per quel tipo di attività. Cioè la base d'asta prevede un pagamento dei lavoratori inferiore a quello che prevede la legge? E chiedono un inquadramento inferiore quindi di questi lavoratori. Per quelle mansioni dovrebbe essere adottato. Ma chi sono queste? Sono sempre strutture pubbliche che fanno questi mesi? Sono strutture pubbliche. Quindi noi adesso andremo a segnalare, proveremo a capire come si può intervenire. Di fatto però nel momento in cui gli enti vanno in difficoltà perché c'è crisi, la soluzione più semplice sembra questa. In realtà il fatto di andare a massimo ribasso, di spendere meno per queste cose, in realtà crea dei costi aggiuntivi dopo. E una povertà del nostro territorio che va ad implementarsi, creando maggiore disagio, maggiore difficoltà. C'è un particolare settore delle cooperative che si occupa di un tema che rende incandescente il dibattito in italiano, che sono le cooperative che si occupano dell'accoglienza dei profughi. Adesso l'obiettivo, ho sentito diversi prefetti parlare di questo argomento, è creare proprio un sistema di qualità, quasi una cooperativa unica sostanzialmente, che possa garantire standard comuni per tutti i trattamenti. È una via assolutamente innovativa che potrebbe poi essere anche utilizzata come modello per altri servizi? Noi come cooperative abbiamo stilato un protocollo con delle linee di intervento, che prevedono gruppi piccoli seguiti in un certo modo, proprio per andare in vista alla qualità e anche rendere trasparente dove si spendono i soldi che arrivano. Perché anche lì i soldi sono pro capito e pro die abbastanza durante il giorno, ma se uno pensa all'assistenza linguistica, piuttosto che spesso all'inserimento sociale, piuttosto che alla parte sanitaria, piuttosto che alla parte abitativa, è chiaro che questi soldi ci vogliono. L'altra cosa che va un po' sfatata è che questi soldi in realtà non vengono tolti agli italiani. Cioè il capitolo di spesa è europeo ed è apposito per questa cosa qui. Quindi quando si sente dire c'è quella famiglia che non ha ricevuto dal comune quell'emolumento e invece i profughi ce l'hanno, secondo me c'è un po' di confusione che andrebbe chiarita. Sì, i soldi lo sappiamo che non sono fondi europei, tutti i paesi sono chiamati a concontrare il fondo legato appunto ai rifugiati e tutte le questioni purtroppo sono sul controllo di queste persone che arrivano e sui tempi che il nostro paese purtroppo ha lunghissimi per cercare di catalogarli e capire se sono o meno aventi diritto. E lì si rischia veramente di spendere un disastro di soldi per il mal funzionamento dei meccanismi di controllo del nostro paese, sui quali però nessuno parla perché difficilmente si sente parlare di questo che poi alla fine è il nodo principale, cruciale di tutta la faccenda e alla fine appunto chi pagherà? Perché poi io vi domando, ma un giorno che verrà fatto un bilancio finale di queste persone si scopre che non avevano diritto, chi pagherà quei soldi? Eh, bella domanda. Io penso che ci sarà una bella questione da risolvere. Bisogna accorciare i tempi di indagine rispetto alle persone che arrivano e bisogna anche che le segnalazioni rispetto ad alcune persone che non sono gradite e non è il caso che rimangano come dei rifugiati vanno identificate subito. Vanno identificate, assolutamente. Questo è un problema. Senta, a proposito di cose che arrivano in ritardo, spesso ci sono, c'è lo stesso problema che le imprese hanno con la pubblica amministrazione e lo hanno anche le cooperative, anche quelle di cui stiamo parlando adesso che spesso lavorano anticipando loro i soldi per la gestione dei profughi addirittura oppure anche di tante altre vicende. Su questo sono stati fatti dei passi avanti o la situazione rimane sempre abbastanza dura? Su questo si tampinano sempre gli enti per qualcosa è stato fatto ma non ancora abbastanza, nel senso che ancora abbiamo la situazione cooperative che fanno da banche agli enti. E questo è il fatto? Volendo far causa rispetto ai sovrapprezzi e agli interessi per More diventa una cosa impensabile, quindi è il caso di cominciare a metterci d'accordo in maniera un po' più costruttiva. Voi a Venezia tra l'altro avete avuto una situazione dal punto di vista amministrativo veramente molto pesante perché con il comune commissariato, la provincia in lenta sparizione, la situazione è diventata molto dura tra l'altro con un buco di bilancio considerevole. Adesso avete il sindaco più amato d'Italia che sta tentando, no l'ha detto il sole 24 ore, non è autoreferenziale. Però ha un messaggio che vorrebbe, da questo punto di vista, un sassolino che vorrebbe togliersi dalla scarpa. Rispetto al comune di Venezia, io penso che debba implementare un po' la partecipazione dei cittadini e delle imprese e delle categorie. Ha fatto qualcosa, fare dei tavoli più costruttivi e più mirati ai contenuti forse adesso è il momento. Tra l'altro, io mi ricordo l'anno scorso, c'è stato un tema molto grosso lì a Venezia per la gestione delle messe scolastiche. C'erano i genitori per strada, invenenati, perché tra le riforme nazionali, i tagli nazionali e i tagli di Venezia c'era stata una situazione di grande allarme sia per le pulizie sia per quanto riguarda la gestione delle messe. Quest'anno siete un po' più sereni? Non ho segnalazioni di questo tipo, evidentemente la situazione si è tranquillizzata, almeno da questo punto di vista. La prospettiva di aprire una cooperativa è ancora una prospettiva allettante? Cioè voi avete un saldo positivo di aperture di cooperative? Sì, ci sono tante richieste di apertura di nuove cooperative. Una parte va tarata perché hanno l'aspettativa che aprire una cooperativa non costi niente, che il lavoro poi non costi niente. Bisogna sfatare questa cosa, non è più così, nel senso che abbiamo pochissime agevolazioni e anche tutte di senso, al mio modo di vedere. Dopodiché ha un senso invece aprire una cooperativa se si ha un gruppetto di persone che vuole lavorarci. Nel senso che secondo me è ancora la forma giuridica più atta alla mutualità, sostanzialmente. Dopo è vero che non è facile gestire questa forma. Sono comunque imprese, ormai sono normate. Sono imprese aziendali. Aziendali, a tutto tondo. Ma in che settori nascono principalmente? Cioè cos'è che, penso qualche giovane, che magari voglia mettere a frutto anche le amicizie fatte durante i percorsi di studio, di vita? Le richieste vanno da cooperative sociali, anche rispetto ai profughi, associazioni che si trasformano. Quindi quante ne sono nate più o meno? Ne sono nate tante? Guardi, le faccio avere il dato. Ha imprese dove, sulla digitalizzazione, sui programmi, sulla ricerca... Servizi anche per la pubblica amministrazione, perché quello è un settore di fortissima espansione. Quindi seguono un po' l'andamento... Seguono un po' l'andamento del trend, delle attività, dove vanno, insomma. Ecco, mentre quelle che stanno un po' in disuso, secondo lei, quali sono? Beh, noi abbiamo avuto le cooperative di abitazione in grossa difficoltà. L'edilizia, va bene, l'edilizia sappiamo che è un settore... Per quel proprio... Che nonostante tutto continua a soffrire un periodo molto duro. Sì, direi che quella è quella che sta ancora soffrendo di più in questo momento. E non ci sono segnali di nessun tipo? C'è qualche segnale, però la lunga mano dell'onda di ripresa è ancora al di là di avvenire, insomma. Lei è una donna alla guida di un sistema... Tra l'altro, io ho visto che spesso le donne guidano nel sistema cooperativo, hanno un ruolo importante. E quando tocca... Quando tocca tutto, non lo voleva fare lei. È stata una scelta sua e questa carriera all'interno di Coff Cooperativo o una necessità? È stata ambedue. Ambedue? Sì, è stata ambedue. Che tipo di obiettivi si è posta per questo periodo così complicato e difficile? Perché è bello guidare quando tutto va bene, quando problemi non ce ne sono, quando invece ogni giorno è una battaglia, insomma. Beh, dal punto di vista associativo, l'obiettivo che ho adesso è quello di far veramente decollare l'intersettorialità all'interno delle cooperative della provincia di Venezia. E quindi trovare dei meccanismi virtuali o pseudotali per riuscire a far collaborare insieme vari settori. Quindi delle specie di rete di cooperative. Le specie di rete di cooperative, ma in maniera molto più pratica, molto più imprenditoriale di quello che stiamo facendo adesso, sostanzialmente. Io credo ci sia bisogno di questo. Che c'è bisogno appunto di questo. Perché è una tendenza, tra l'altro, che riguarda anche le imprese, questa necessità di doversi... Riguarda le imprese. Chi riesce a fare questo, di fatto, riesce a progredire, a evolvere, anche come... A ridurre magari dei costi. Si riducono dei costi, si fanno delle attività più consone ai bisogni del territorio di questo momento. Però è una cosa un po' faticosa, diciamo, perché ognuno di noi ha le sue abitudini e si fa un po' fatica. Ecco, nel mondo delle imprese sappiamo che le donne fanno un po' più fatica. Ci sono donne nel sistema cooperativo che aprono cooperative invece? Sono di più nel settore delle sociali. Ah, delle cooperative sociali. Dove anche nella società normalmente è un ruolo affidato molto di più alla donna che in questo caso riesce a farle una professione. Abbiamo una media di occupazione femminile del 65% grosso modo in Veneto, all'interno delle cooperative, però faccio conto che al 90%, invece se noi andiamo a settori, il 90% delle persone che lavorano nelle cooperative sociali è donna. Quindi c'è un divario. Assolutamente. È una cosa che mi viene in mente, abbiamo seguito anche moltissimo, proprio nel settore sociale, molte crisi anche lì, perché voglio dire, soprattutto le case di riposo, le grandi strutture pseudosanitarie, non hanno passato un momento facile. Da questo punto di vista adesso c'è qualche segnale positivo? Da questo punto di vista, rispetto alle strutture sociosanitarie, abbiamo la definizione per alcune strutture delle rette standard della regione, ma ancora non sono state applicate nei contratti. E quindi siamo in attesa di capire come si svolgerà questa cosa. Quindi una fase di transizione, di attesa sostanzialmente. Sì, nel senso che dovevano partire appunto da gennaio il riconoscimento delle rette standard, che avrebbe un po' equiparato i servizi nella regione, ma credo qualche meccanismo, bisogna andare a capire dove e come rendere attiva questa cosa. Va bene, cercheremo anche noi di capire e di occuparci neanche all'interno del nostro giornale. Intanto io ringrazio la Presidente di essere stata con noi questa mattina. E bocca al lupo, allora per questa annata mi sembra ricca di cose da fare e di scommesse da vincere ancora. Noi ci vediamo come sempre invece domani. Arrivederci allora. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie.